Sarà un'occasione per avere una grande manifestazione che porta anche indotto sul territorio, ma soprattutto promozione di un intero territorio. Siamo orgogliosi e siamo orgogliosi anche di appoggiare e dare una mano fattiva e collaborativa a questa grande istituzione italiana che sono gli Alpini. Perché Rimini? Perché è un territorio che da un lato certamente può avere quel significato magari di allegria, di festa, di momento di relax, ma anche come ha detto il sindaco il significato di una realtà in cui ci si trova per stare insieme, in cui il concetto di appartenenza e di stare insieme e di vivere bene insieme è fondamentale, quindi l'accoglienza. Un grande onore, Rimini esce dalla seconda guerra mondiale con 386 bombardamenti, medaglia d'oro al valore civile, un grande appuntamento che ha il sapore, il senso di patria, di tricolore, di volersi bene. Gli Alpini sono un'istituzione in un paese dove tra l'altro siamo abituati ai ballottaggi, Rimini ha vinto al primo turno, ci dispiace per Torino e Verona, ma abbiamo messo in campo l'Emilia Romagna, i servizi, l'ospitalità, il senso di una grande adunata che fa vivere l'orgoglio identitario veramente del nostro paese.